Amaury Ribeiro, allenatore della nazionale femminile. Dopo questo primo incontro con la Sina, finto 3 a 0, un tuo commento, per favore. Bene, abbiamo fatto dei momenti buoni sulla partita, però si vede chiaramente che manca un po' di ritmo della squadra, nel senso di giocare di più, perché da tanto tempo che ci riuniamo per giocare, e così ci manca un po' di ritmo di gioco. Però abbiamo avuto dei momenti belli, buoni, tecnicamente, e dei momenti brutti che abbiamo sbagliato, però questo penso che venirebbe meglio con più allenamenti e più partite, che vedremo fino al momento di finire la preparazione per il campionato europeo. Grazie.